Passeggiata nella città, proprio per venirci a salutare, a cantare con... Allora, io allora nel 68 ero giovanissimo, però mi arrivo all'epo di questo gesto, e io e un altro gruppo, e c'è anche qui Renato, dove è Renato? Renato! Sto evocando, ecco non ci ascolta perché non c'è la cuffia, ma il maestro... Renato è il maestro elementare con cui abbiamo fatto stamattina la passeggiata. Noi, qualche anno dopo, nel 77, abbiamo fatto un altro gruppo, si chiama gli indiani metropolitani, e ci ricordavamo di voi, abbiamo calpestato le vostre orme. Renato faceva parte di quel gruppo, e anche noi abbiamo fatto nel centro storico di Roma delle passeggiate con caratteristiche simili alle vostre, quindi riconosciamo a Paolo, quindi c'è un maestro, una forte simpatia. E non a caso siamo qui.